Ma proprio questo silenzio. Verso la scintilla, attraverso Marco a cura di Vubbi, domanda Che cosa prova un ateo dopo il trapasso? Guida spirituale. Il maggior danno dell'essere atei non è il fatto di essere atei, ma proprio questo silenzio che dopo il trapasso si percepisce nel piano astrale. E ci si sente veramente in compagnia soltanto dei vermi che ti divorano. Questa è la sensazione provata da molte entità di uomini atei. Parlo di atei, di materialisti, in senso veramente scientifico, veramente forte, dei veri materialisti. Domanda Soffrono praticamente della guida spirituale, della propria convinzione. Domanda Soffrono anche della disgregazione del proprio corpo? Guida spirituale. Certo, perché per loro quella era l'unica realtà. Domanda Uno che dubiti sinceramente dell'esistenza di Dio è da considerare ateo? Guida spirituale. Nessuno è ateo. Qualcuno è materialista, ma nessuno è ateo. Io ho parlato di ateo per riferirmi alla vostra terminologia, ma per me nessuno è ateo. Come potrebbe essere possibile che qualcuno sia ateo? Ateo significa senza Dio e vivere senza Dio è impossibile, dato che Dio è il tutto uno assoluto. Quindi è illogico dire ateo. È una delle parole più illogiche del vostro vocabolario, che vi consiglio di sostituire al più presto con materialista. Comunque, per venire alla domanda, quando c'è solo un dubbio, non c'è questo tipo di effetto nel piano astrale. Invece, quando c'è la certezza che Dio non esiste, c'è quel tipo di visione, proprio di vita nel piano astrale, almeno nei primi momenti. Grazie a tutti.